Grazie allora Juve-Napoli 2-0, chi era in live ieri sera lo sa che l'avevo detto, magari pensavo si finisse i supplementari, però ero sicuro che la Juve avrebbe avuto una reazione, perché la Juve, lo sappiamo, ce l'ha insegnata in questi anni, può sbagliare una partita, ma poi nelle partite che contano veramente di solito non le sbaglia, ecco, due consecutive non le sbaglia, ottima, ottima Juve, ma io ho sempre sostenuto una cosa, cioè, non bisogna buttare la croce addosso a Pirlo, perché Pirlo ha delle buone idee, io quante volte l'ho ripetuto quando faccio il video sulla Juve, e oggi l'ha dimostrato, certo, poi ogni tanto fa degli errori, ma è normale, ragazzi, cioè lui non poteva allenare neanche il Lega Pro a settembre, ad agosto, è ovvio che alla Juve tu sei obbligato a vincere, e non solo, devi anche convincere, perché dopo nove scudette di fila, Coppa Italia e tutto, la Juve deve convincere, non solo più vincere, e quindi Pirlo deve anche sbagliare, come ha fatto a Milano contro l'Inter, Io non so se a Milano contro l'Inter, McKennie non poteva giocare, perché se non l'ha fatto giocare per una scelta tecnica, ha fatto una cazzata immensa, perché la Juve non può prescindere da due giocatori, cioè almeno uno di quelli ci deve essere sempre, McKennie o Ramsey, il problema è che Ramsey spesso è infortunato, un po' abullico come giocatore, si mangia anche tanti gol, Ramsey l'ho visto contro Sassuolo, si ha mangiato tre gol, Oggi McKennie tanta roba, è stato l'ago della bilancia, poi ha avuto anche la bravura di mettere la Furbizzi, non so poi se Morata non era al meglio, si vede che l'ha visto con l'Inter un po' sottotono, con Luzesco e Ronaldo, che non hanno dato punti di riferimento, in effetti hanno affatto a mattire la difesa napoletana, Napoli non è stato secondo me all'altezza, ha fatto una partita onesta, ma io ho visto un Napoli quest'anno che chi segue le mi live lo sa, che a me non convince il Napoli, perché nei momenti Clou contro il Milan, contro il secondo di noi anche, spesso perde, ha vinto con la Roma, con l'Atalanta, certo, però spesso manca qualcosa, oggi è mancato qualcosa, manca Osimè, quello bisogna dire, poi Pettagna è anche lì, Pettagna è una riserva, magari con la Fiorentina può far bene, adesso tanto intervistano Ronaldo, però oggi Pettagna non ha fatto nulla, ho visto un Lozano in forma, che veramente quest'anno è tanta roba, Scesni oggi decisivo, perché poi comunque il Napoli, la superiorità territoriale l'ha avuta più la Juventus, però ha avuto due belle occasioni con Lozano e uno all'ultimo su deviazione che Scesni col piedone, quindi io qua lancio una frecciatina agli youtuber che criticano Scesni, ragazzi, cioè Scesni sì, non è un portiere, un fenomenale, però comunque un grande portiere, cioè il problema della Juve sicuramente non è il portiere, perché Scesni oggi, ragazzi, decisivo, ma non è la prima volta, poi qualche errore lo fa, va bene, c'è da dire che un conto è giocare in questa Juve qua, che prendi tanti tiri a partita, non sei più coperto dal centrocampo, Marchiso, Vidal, ecco, è diverso ovviamente, però il Napoli poca cosa. Poi ti danno un rigore, che io subito ho detto, è un rigore che in effetti McKennie non guardava, è stato involontario, però da regolamento è un rigore che c'è, rivedendolo poi è netto, e anche se, vabbè, McKennie lì, ecco, ho elogiato McKennie, ha fatto quell'errore lì, però ci sta, voglio dire, è stato furbo Mertens, Pettane non se lo sarebbe mai guadagnato un rigore così, Mertens a mezzo servizio, vedete, già comunque decisivo, e Insigne dimostra quello che è il giocatore Insigne, un giocatore dall'esto incredibile, ma gli manca sempre un centesimo per fare un euro, Insigne non è un campione, Insigne è un grande giocatore, ma nei momenti clou manca, cioè Insigne, io non mi ricordo un rigore sbagliato da Insigne, e lo sbaglia stasera, vuol dire che manca qualcosa qui, al giocatore, a tutto Insigne per diventare un fenomeno, però gli manca qualcosa qua, ok, cosa che non manca a Ronaldo, che comunque oggi mi è piaciuto Ronaldo, io sapete sono un detrattore di Ronaldo da quando era la Juve, però oggi l'uomo l'ha saltato, oggi l'uomo l'ha saltato, ha fatto un gol che sembra facile, però i gol più facili nelle finali sono i più difficili, bisogna trovarsi nel posto giusto, al momento giusto, cappella di Bacayoko, perché io non so cosa ha fatto in quel momento lì, e Manolas ha provato a fare anche due autogol, quindi si ispira ai Bannes, secondo me Manolas, e poi è arrivato la chiusura di Morata alla fine, su Assis mi pare di, dovrebbe essere quadrado, che ha fatto una gran partita, quadrado, mamma mia, e quindi ottima Juve, è bravo Pirlo, però stavolta lo diciamo, è bravo Pirlo, ok, quindi cerchiamo di tenere una coerenza, Pirlo per me, per essere la prima esperienza, sta facendo bene, poi sbaglia, ma lì te la devi prendere con la società, non con Pirlo, cioè Pirlo, fino a due mesi fa non era neanche, non poteva neanche allenare la Lega Pro, e tu vai a criticare Pirlo perché sbaglia la partita con l'India, certo, è giusto dirlo, ma vai a prendere Agnelli, chi l'ha messo lì, però Pirlo ha delle buone idee, vedrete che comunque la Juventus, intanto un trofeo l'ha portata a casa, che non conterà tanto, però se oggi perdevi, occhio, se oggi perdevi rischiavi di andare in crisi, e quindi sicuramente magari è un trofeo che cercava più il Napoli come trofeo in sé, però un bel segnale secondo me agli avversari che la Juve c'è e vedremo secondo me un bellissimo campionato. Ragazzi, il video è questo, like al video, recuperate anche il video di oggi che è uscito sulla neve, bellissimo, alla prossima!